Enture è un progetto cofinanziato nell'ambito del programma Erasmus dell'Unione Europea che ha come principale obiettivo quello di aiutare una cooperativa di donne del Madagascar a realizzare una microimpresa turistica che permetta loro una vita dignitosa. Per fare questo siamo qui oggi in questa settimana di mobilità in cui ospitiamo due persone che vengono da questa ONG C4C del Madagascar e un'altra ONG partner del progetto della Martinica per parlare di creare impresa al femminile nell'ambito del turismo. Siamo qui oggi con il forum dove abbiamo invitato persone da tutta Italia che ci aiutano a definire cos'è il turismo responsabile, cos'è il turismo comunitario e se questo è lo strumento adatto per creare sviluppo nel Madagascar ma in realtà anche qui in Italia. Quindi è un'esperienza che vogliamo poi poter replicare anche qui. Ecco, cosa si intende per turismo comunitario? Qualcosa che stiamo approfondendo stamattina con l'intervento di due relatori prima che ci permette di dire che il turismo comunitario è una forma di turismo responsabile che permette di utilizzare il capitale umano, culturale, naturalistico del territorio dove siamo senza deprivare quelli che ci vivono, anzi fornendogli delle risorse economiche senza snaturarle, senza cambiarle, senza distruggerle. Il forum di oggi però è solo una parte di una settimana che vi vede coinvolti qui a Perugia? Sì, infatti porteremo i nostri ospiti che sono provenienti sia dalla Marchinica, dalla Madagascar ma da tante parti dell'Italia a fare delle study visit presso delle aziende che ci possano insegnare qualcosa con le quali possiamo condividere un approccio di turismo responsabile e che siano dei buoni esempi. Andremo allo stello diffuso di Bevagna, andremo alla Semente, andremo in tanti territori dove le aziende ci ospiteranno condividendo quelle che sono le loro esperienze e le loro pratiche. Perfetto.